Ancora un caso di malasanità presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Agropoli. Dopo l'episodio avvenuto alcuni mesi fa riguardo la non assistenza ad una bambina nella giornata di ieri l'ennesimo rifiuto da parte dei sanitari presenti a prestare assistenza ad una cittadina del posto. Eppure dopo l'episodio della bimba al PS il direttore sanitario Adriano De Vita, sollecitato anche dai vertici regionali a fare meglio per la struttura agropolese, aveva fatto un ordine di servizio a tutto il personale del pronto soccorso, ovvero di accettare tutti i cittadini che giungono al PS, ma a quanto pare l'ordine è durato ben poco. Un'altra domanda che i cittadini si pongono è questa, ma è normale che un medico di pronto soccorso laureato in medicina e chirurgia dichiari la sua incapacità nel fare una medicazione e invii un utente dallo specialista? Che senso ha a questo punto avere due medici, tre infermieri e due OSS nel pronto soccorso se poi non fanno neanche una medicazione o il cambio di una sacca di stomia? Di seguito lo sfogo della figlia della malcapitata sulla pagina Facebook. Oggi di ritorno dal controllo post-operatorio, dall'ospedale di Mercato San Severino, dove regna la vera missione di colui che lavora per aiutare il prossimo, dove non vi è differenza tra medico, infermiere e portantino, dove tutti collaborano uniti per dare serenità alla persona sofferente. Dopo solo poche ore dall'affissione a mia madre della sacca di ileostomia, la sacca si stacca. Purtroppo mamma ha la pelle lacerata per vari motivi e quindi questa cosa può succedere. Panico, chiamo quella santa dell'infermiera che viene a cambiarla e purtroppo è di turno, non ad Agropoli. Panico raddoppiato, opto per il 118 che due giorni fa ho chiamato e che, con una gentilezza e bontà indescrivibili, sono state a casa per fermarle un'emorragia esterna, ma anche per cambiarle la sacca. La centralinista di oggi ha la mia richiesta di aiuto, spiegando la situazione ancora fresca di mamma e la mia facile probabilità di venire meno se ci avessi provato, mi risponde in stretto dialetto campano. Signò, a vita fa vui. Rispiego che non ho il coraggio sia perché questa realtà per noi è una cosa troppo nuova e sia per paura di farle male, ma lei, forsegnara della situazione pandemica, mi dice «Signò, chiamate una vicina e la facite cambià». Io, mentre chiedo le generalità e dico che avrei denunciato la cosa al pronto soccorso dove mi sarei recata immediatamente, vengo ripagata con un'interruzione di chiamata. Praticamente mi ha chiuso il telefono in faccia, è tutto registrato, mi volto verso mamma. È la situazione peggiora, lascio a voi l'immaginazione del perché. Mi precipito al pronto soccorso di Agropoli, mamma camminava lentamente per evitare ulteriori fuoriuscite e vengo accolta con un prego da tre infermiere, o almeno credo, sedute dietro all'accettazione vicino a una stufa, mi pare. Spiego il tutto e mi viene risposto «No, non abbiamo niente per poterlo fare». Prontamente ribatto «Ho portato tutto l'occorrente, vi prego, aiutateci, non sappiamo davvero come fare». Ero quasi in ginocchio davanti a quel vetro, ma loro, senza scomodarsi, dicono nuovamente «No, non possiamo farlo». Alle mie continue richieste di aiuto mi dicono che chiedono alla dottoressa di turno. esce una donna bassa e biondina che mi chiede cosa fosse successo. Con educazione e supplicandola quasi in ginocchio chiedo di cambiare la sacca alla mia mamma perché si è staccata ed io sono incapace. Lei sottolinea con tono fermo e deciso «No, io non la cambio, non sono un chirurgo, ci vuole il chirurgo, andate a Rocca». Le faccio notare che chi lo ha fatto a mamma era infermiere e che mi è stato riferito che avrei potuto farlo anche io, ma non ho il coraggio per vari motivi e che a Rocca mamma ci sarebbe arrivata puzzolente, peggio di un camion della spazzatura. Lei si gira verso le colleghe ancora sedute comodamente vicino alla scrivania e dice «Io non faccio niente, si ruvlite fa voi, facite ril senza mangi registrà. Chist non volo capisce». A sentire Chisti mi altero e ribatto che quelli che lei chiama Chisti sono persone che le permettono di prendere uno stipendio e il minimo che stavano chiedendo era solo un po' d'aiuto tra l'altro con tutto l'occorrente portato da casa nostra. Stavamo per chiamare i carabinieri ma mi hanno bloccata le lacrime di mamma che in quel momento era stata umiliata per una valida richiesta di aiuto e ho pensato a chi è solo e ha bisogno di aiuto e gli viene negato. Umanità, dove sei?». Infine, ciò che ci ha aiutato è stata la macchina della solidarietà che si è messa in moto grazie all'esserci. Lo stesso esserci che contemplavo pochi giorni fa, l'esserci di tante persone che mi hanno fornito numero di medici e infermieri pronti a venire in nostro aiuto, persone che ringrazio qui pubblicamente per quanto hanno fatto oggi anche solo verbalmente. L'esserci di chi in un modo e in un altro mi ha aiutato a ridare dignità alla mia mamma. E a proposito, chi ha cambiato la sacca a mamma non è un chirurgo eppure ci è riuscito benissimo. PS, ovviamente non voglio fare di tutta l'erba un fascio. Conosco persone splendide che lavorano nell'ospedale di Agropoli, dei veri angeli, ma peccato che costoro sono pochi e sempre meno. La storia si ripete e a quanto pare non si prevede un lieto fine. La richiesta alla direzione sanitaria dell'ospedale Vallo Agropoli è sempre la stessa. Se il pronto soccorso di Agropoli è aperto e dovrebbe garantire almeno queste piccole attività, perché si continuano a verificare episodi del genere? Non sarebbe meglio a questo punto riconvertire il PS in pronto soccorso Covid per pazienti positivi? Almeno in questo caso l'assistenza verrebbe garantita al 100%.